Trasmissione dettagli finali, a partire da adesso la settima unità aerea sterminerà i Naitiba Alpha che occupano il distretto 3. Il loro obiettivo è la cattura o l'eliminazione del Naitiba antico. Manca poco all'atmosfera. Raggiungimento soglia un minuto. Soglia marcata, attivazione scuso in corso. Soglia marcata, attivazione scuso in corso. Espulsione a navigate disponibili secondo il protocollo B-32. Sous-titrage ST' 501 Non, non! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501